Ciao a tutti, oggi prepareremo il purè di zucca. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono patate, zucca, sale, latte, salvia, parmigiano e noce moscata. Diamo il via la ricetta. Iniziare la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e le foglie di salvia ed azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10. Mettere da parte in una ciotola. Senza lavare il boccale mettere la zucca, le patate, il latte, il sale e il burro. Chiudere con il coperchio. Appoggiamo sul coperchio il cestello e cuocere per 30 minuti, 100 gradi, velocità 2. Aggiungere il parmigiano, la noce moscata, chiudere con il misurino ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 4. Il purè è pronto, serviamolo. Purè di zucca. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.